Musica Scontro frontale tra scooter e furgone a villa fastigio di Pesaro Grave il centauro trasportato al torrette di Ancona A Fano un giovane perde il controllo dell'auto Si cappotta lungo via Legranci Focolai in due reparti dell'ospedale Santa Maria della Misericordia Su Fano TV l'assessore alla sanità Elisabetta Foschi Che chiede un aiuto a Marche Nord Urbino non si è mai sottratta al sostegno dell'azienda in stato di necessità Parte da Pesaro ma arriva in tutta Italia L'iniziativa lanciata da Umberto Carriera Venerdì migliaia di varisti e ristoratori Apriranno le attività contro i decreti del governo Intanto Salvini si schiera a favore dei ribelli Ma Ricci lo stoppa Sostenere azioni illegali è molto grave Le leggi verranno fatte rispettare Operazione sottovuoto dei carabinieri stroncato Un traffico di stupefacenti a Pesaro Con dieci arresti, sedici denunce Dieci soggetti segnalati alla prefettura Accessori moda e giochi per bambini pericolosi Per la salute sequestrati dalla Guardia di Finanza 4.700 articoli Strade con la brode Buche come voragini Ecco i video e le richieste dei fanisi A sindaco Massimo Seri In diretta ieri sera a Primo Cittadino Il Carnevale di Fano sarà in estate Di sere senza getto In arrivo i bozzetti dei carri Ancora in dubbio il pubblico e il numero di sfilate Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo con due incidenti che si sono verificati Nel pomeriggio di oggi Il primo intorno alle 17 In via Brigata Gappa L'intersezione con via Brigata Garibaldi A Villa Fastigi di Pesaro Dove uno scooter e un autocarro si sono scontrati frontalmente La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei vigili urbani Ad avere la peggio è stato il Centauro Rimasto incastrato sotto il furgone Destratto dai sanitari Si tratta di un 41enne residente Nella zona di Muraglia Monte Granaro Che è stato trasportato in eleambulanza In gravi condizioni al Torrette di Ancona Sotto sciocchi invece il 26enne Di origine rumena Ma residente a Rimini Alla guida dell'autocarro Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco A Fano invece un ventenne del posto Ha perso il controllo dell'auto E si è capottato L'incidente autonomo si è verificato Intorno alle ore 18 Lungo via Le Granici Il ragazzo era a bordo di una Fietta 500 Quando forse per una distrazione Probabilmente a velocità sostenuta È finito prima sul muretto di una uola Poi contro un cartello stradale Contro una pianta Ed infine si è ribaltato con il mezzo Che è rimasto capovolto Il giovane che è uscito da solo dal veicolo È stato trasportato al pronto soccorso Del Santa Croce per accertamenti E adesso passiamo alla pagina della sanità E cominciamo dai due focolai all'interno dell'ospedale di Urbino Oggi abbiamo fatto il punto con l'assessore Elisabetta Foschi Che ha anche lanciato un appello all'azienda Marche Nord Colpito da due focolai Nonostante sia un ospedale no Covid Al Santa Maria della Misericordia di Urbino Si sta fronteggiando l'emergenza coronavirus Due i reparti coinvolti e chiusi Reanimazione e cardiologia Elisabetta Foschi Assessore comunale alla sanità Ha seguito passo passo l'evolversi della vicenda E oggi ci ha spiegato La situazione è critica ma in via di miglioramento Sono scesi a nove i pazienti contagiati Perché sei sono stati trasferiti Mentre gli operatori sanitari in isolamento domiciliare sono 24 Poi abbiamo raggiunto quella soglia critica E la chiusura dei due reparti Comporta una difficoltà notevole Perché l'ospedale di Urbino deve rispondere a patologie no Covid Di un'intera o entroterra E va da sé che non avere la cardiologia e la rianimazione Anche per le altre patologie Crea un problema non indifferente Sono garantite le urgenze Ma non gli interventi programmati al momento Per risolvere il problema è sceso in campo Anche l'assessore regionale Filippo Saltamartini Che non solo si è attivato sin da subito Per il trasferimento dei pazienti positivi Ma attraverso il Gores ha chiesto rinforze Alla protezione civile nazionale Per l'invio di medici cardiologi Anestesisti e internisti Infatti l'obiettivo principale È quello di garantire la prosecuzione Dell'attività clinica In quello che è l'unico ospedale no Covid Della provincia di Pesore Urbino Auspicherei in questo senso Anche maggiore collaborazione tra ospedale di Urbino Che è Asur E magari Marche Nord Che ha una sua autonomia Però Urbino non si è mai sottratta Al sostegno Quando Marche Nord va in difficoltà Ecco l'ospedale di Urbino Quando parliamo di ospedale di Urbino Parliamo di tutta la popolazione dell'entroterra Se può essere dato aiuto anche in quel senso Sarebbe positivo Comunque l'ospedale si sta organizzando Per riaprire le parti Entro la fine di questa settimana Massimo all'inizio della prossima State pensando anche di attivare un numero di telefono Dedicato alle segnalazioni Di che cosa si tratta? Sì A parte i pazienti in ospedale Ci sono molte persone positive a casa E a differenza di marzo Diciamo che la patologia viene affrontata prima E viene affrontata a domicilio Tramite le USCA O le visite domiciliari dei medici di medicina generale Il numero lo abbiamo pensato Perché abbiamo avuto segnalazioni di persone A casa malate Con i sintomi che magari non hanno avuto La visita del medico O dell'USCA Ecco Prima riusciamo a risolvere queste situazioni a casa Prima risolviamo il problema dell'ospedale Il numero serve per segnalare Se ci sono disfunzioni domiciliari E c'è un aggiornamento perché i pazienti covid All'ospedale di Urbino sono rimasti in sei Salvo ovviamente i nuovi ingressi da pronto soccorso Rimane alto il numero dei decessi nelle marche Nelle ultime 24 ore sono morte 12 persone con coronavirus 5 le vittime della provincia pesarese Nell'ultima giornata sono stati rilevati 499 positivi La provincia con più casi è quella di Pesero Urbino Con 174 contagi I ricoveri invece sono in aumento Negli ospedali della regione ci sono 38 pazienti in più Ma tutti in reparti non intensivi Infatti sono in leggero calo i degenti In terapia intensiva Ma anche quelli in semi intensiva E la campagna vaccinale covid Nelle marche è perfettamente al passo Con i protocolli ministeriali Lo dichiara l'assessore alla sanità Delle marche Filippo Saltamartini Che annuncia Disabili e persone con fragilità Saranno i primi ad essere vaccinati Nella fase immediatamente successiva A quella in corso Che si concentra sul personale sanitario Ed ospiti delle RSA Inoltre prosegue l'assessore Appena riceveremo dal commissario di governo Le scorte necessarie Procederemo con una nuova campagna di vaccinazione E nelle categorie prioritarie Verranno ricompresi anche insegnanti e professori Intanto continuano anche domani I tamponi di massa Attivi dalle 8 alle ore 13 I presidi di Marotta Al Bocciodromo Comunale E di Fano Sia al Codma Che alla palestra Venturini Nel pomeriggio invece Questa è la novità Dalle 15 alle ore 19 I test potranno essere eseguiti Soltanto alla palestra Venturini E dall'emergenza sanitaria Quella economica Parte da Pesaro La protesta di baristi e ristoratori Che venerdì apriranno le attività Contro i decreti del governo Angelica Panzieri È andata a sentire il parere Di alcuni imprenditori Le marche tornano gialle Ma gli umori di baristi e ristoratori Restano neri Il continuo susseguirsi Alternarsi di aperture e chiusure Sta mettendo a dura prova Il lavoro di tutti gli operatori del settore Nessuno di loro è disposto A gettare la spugna Se da un lato Ristoratori e baristi pesaresi Da ieri hanno ripreso a lavorare A pieno ritmo Dopo il passaggio delle marche In zona gialla Dall'altro in tanti Iniziano ad essere stanchi Stremati da mesi di chiusure Con i ristori Che arrivano a singhiozzi E nemmeno a tutti Alcuni di loro Stanno già pensando Di aderire all'appuntamento nazionale Di Io Apro In programma Per venerdì 15 gennaio Promosso a Pesaro Dal ristoratore Umberto Carriera Che vedrebbe La riapertura serale Dei ristoranti Pur nel rispetto Delle norme anti-covid Non tutti sono d'accordo L'unica cosa certa È che ad oggi I bilanci Per gli operatori Del settore Sono tutt'altro che rosi Noi rispettiamo La sua posizione Ma non la condividiamo Perché Pensiamo che sia giusto Rispettare le leggi Anche se poi Non vengono Condivise a pieno Quindi quando ci fanno Lavorare Noi lavoriamo al massimo Quando dobbiamo stare chiusi Si sta chiusi È normale Che solo con gli asporti Un'attività di ristorazione Fa fatica Alla lunga A mantenere quelle che sono le spese E a pagare quello Che normalmente bisogna pagare Con un'attività aperta Ecco E la preoccupazione nostra È Il fatto che qui dentro Non lavoriamo solamente Noi titolari Ma Altri ragazzi Famiglie Che dipendono Da Da questa attività Come tutte le attività Ristorazione Bar E tutto quanto Ormai Ci abbiamo perso le speranze Con questi colori Zone Che non Non ci cambiano più niente Ormai Sappiamo che Dobbiamo solo aspettare Che loro ci dicano Cosa dobbiamo fare Lo facciamo Ci farebbe piacere Saperlo un po' prima E tra le nuove misure Al vaglio del governo Contenute nella bozza Del DPCM In uscita per venerdì 15 gennaio C'è anche il divieto Di asporto Per i bar dopo le 18 Una restrizione Che peserà Non poco Sulle loro casse Volta a contrastare La movida Al di fuori Dei locali Beh Ancora gli effetti Dell'asporto Dopo le 18 Non abbiamo sentito Perché di solito Si va al fine settimana Un po' L'effetto grosso Però insomma Già siamo penalizzati Il chiudere alle 18 È già un grosso problema Sembra che in questi giorni Dovremmo accreditare qualcosa Speriamo Per il resto Insomma Andiamo avanti Con le nostre forze Come al solito Nel frattempo I clienti Continuano ad approfittare In questi giorni Delle marche gialle E a gustarsi Il caffè al bar Che come confidano alcuni Ha tutto un altro sapore È piacevole Perché sembra di rientrare Nella normalità della vita Per cui Anche se Finché non Non riusciremo A Trovare una soluzione Vivremo sempre Quest'altalena E l'iniziativa Denominata Io apro Sta suscitando Polemiche E mal di pancia Oggi Matteo Salvini Si è schierato a favore Di Umberto Carriera Che ha raccolto Decine di migliaia Di adesioni In tutta Italia Salvini In un posto Pubblicato sui social L'ha poi annunciato Una diretta Con gli organizzatori Che si è svolta Alle ore 18 E ha concluso Con la frase Viva la parola Libertà Poche ore dopo Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci È passato all'attacco E su Facebook Ha scritto Che un ex ministro Degli interni Sostenga apertamente Azioni illegali È di per sé Molto grave Che poi lo faccia In un momento come questo In piena pandemia È rispettoso Nei confronti Di chi soffre E di tutti gli altri Ristoratori in difficoltà Che rispettano Le leggi italiane Caro senatore Salvini Prosegue Ricci A Pesaro Le leggi si rispettano E così dovrebbe essere In tutta Italia E andiamo avanti Con la cronaca E con i carabinieri Di Pesaro Che hanno smantellato Un'organizzazione Dedita al traffico Di sostanze stupefacenti Nella città I militari Hanno eseguito Perquisizioni domiciliari A carico di sette italiani Coinvolti A vario titolo Nell'attività illecita È stato arrestato Un 36enne Di origini siciliane Pluri pregiudicato Già sottoposto Alla misura alternativa Dell'affidamento in prova Ai servizi sociali L'uomo residente a Pesaro È ritenuto responsabile Di condotte intimidatorie Nei confronti Dei familiari Del suo principale collaboratore Per indurlo al silenzio L'indagine diretta Dalla procura Della Repubblica Era iniziata Nel maggio 2020 Aveva portato All'arresto Di un quarantenne Di origini siciliane Ma da tempo Residente Nel capoluogo Di provincia La svolta C'era stata Nel mese di giugno Quando gli investigatori Avevano scoperto Anche il covo Che il gruppo Aveva a disposizione Una base Intestata ad un Insospettabile Incensurato Usata per lo stoccaggio E il confezionamento Dello stupefacente All'interno di un appartamento Di villa Fastigi Era stato rinvenuto Oltre un chilo Di cocaina E tre persone Erano finite In manette L'operazione del 9 gennaio Ha chiuso quindi Un importante Canale di distribuzione Di droga Sul territorio pesarese Che complessivamente Ha permesso Di arrestare Dieci persone E denunciarne 16 in stato di libertà Una decina Invece I soggetti Segnalati Alla prefettura Come assuntori Di stupefacenti Invece La guardia di finanza Di Pesaro Ha sequestrato A Gabice Mare 4.700 articoli Non sicuri E potenzialmente Pericolosi Per la salute I prodotti Tra cui giochi per bambini Articoli per la casa Articoli da regalo E accessori moda Avevano un valore Commerciale Di oltre 10.000 euro Ed ora sono stati Ritirati dal mercato Mentre i responsabili Sono stati segnalati Alla Camera di commercio Per la definizione Delle sanzioni amministrative Che possono arrivare Fino a 25.800 euro E adesso passiamo Alle vostre segnalazioni Perché in questi giorni Ci sono arrivati Davvero Numerosi messaggi Su diverse strade Di Fano Che sono piene di buche E in completo degrado Tutti particolari Nel servizio Di Letizia Marchionni Strada di mezzo Metauriglia Guardate Voragini Strada È tutto Una buca Enorme Della gente Cioè Ci caschi dentro Allora Buche Strade non asfaltate E sconnesse Dopo le numerose segnalazioni Arrivate alla nostra redazione Nei giorni scorsi Dai nostri reporter Abbiamo deciso Di constatare di persona In quale stato Riversano le strade fanesi Numerose segnalazioni Velivano da località Metauriglia E siamo venuti qua In strada comunale Di mezzo Che come potete vedere Dalle numerose buche Pozzanghere alle mie spalle Riversa in totali condizioni Di degrado Per sentire l'opinione Di chi la percorre Quasi tutti i giorni Io frequento Questa strada Molte volte Quasi tutti i giorni Diciamo Perché ho i miei suoceri Che abitano qui in fondo Alla strada Abitano Quindi di conseguenza Faccio un sacco fatica Con la macchina Molte volte Mi si spacca anche Pezzi della macchina Quindi come me Penso che in questa difficoltà Si trovano molte altre persone Qui abbiamo più di un chilometro di strada Tutta piena di buche Allora durante il giorno Si fa abbastanza fatica Alla notte Quando non c'è neanche l'illuminazione È un disastro Io spero che Il primo cittadino sindaco Ne prenda proprio A cuore questa situazione Perché anche d'estate È sempre frequentata Da ciclisti Da persone che fanno running E anche da persone Che vanno a passeggio Quindi siccome è una bella strada Fondamentalmente Non è frequentata da auto Molte auto Piacerebbe alla gente Avere una bella strada Ecco tutto qui Un'altra segnalazione Ci ha poi condotto In strada comunale Montegiove Buche e alberi pericolanti Aveva scritto il reporter di strada Una versione confermata Anche dai residenti Piante che cadono Buche nella strada Strada si sta sempre Sezendo di più Ma il sindaco Penso solo per la città E fuori città Non ci pensa nessuno Strada è molto stretta La gente cammina Come i pazzi Con le macchine Non c'è Nessun limite di velocità Non c'è proprio niente Ma le segnalazioni Non finiscono qui La strada che porta Da Carrara A Monbaroccio O strada provinciale 80 Ci ha scritto un altro reporter È un vero macello Ed anche qui Buche e tratti sconnessi Sono all'ordine del giorno Nelle stesse condizioni Mi riversa un tratto Di via Tommaso Campanella In località Chiaruccia Dove nei pressi Della rotonda Che collega La zona industriale Di Bellocchio A Rosciano Gli ammortizzatori Dell'automobile Sono messi a dura prova Anche da Tombaccia Di Fano Sono arrivate Segnalazioni sulle buche In un tratto di strada Di cui però Il nome Forse via Metaurilia Dicono i residenti Resta un'incognita Non passa mai nessuno A coprire quelle buche Se ne formano Sempre in continuazione Ogni tanto Per dire adesso Gli operai ogni tanto Mi mettono un po' di cemento Qualcosa per pietà cristiana Però le buche lì Ci sono sempre state Anche quando In periodo elettorale Asfaltavano tutto Hanno asfaltato Tutta la via là dietro Via Meteoricci Per cui noi eravamo speranzosi Siamo andati A dirlo proprio agli operai Mi hanno detto Guardi noi qui Più che buttare un po' di sabbia Non possiamo Perché non siamo autorizzati Quindi questa via Che oltretutto Ha un nome Ma non ci trova mai nessuno Perché non c'è nel cartello Né niente Questa via qui È abbandonata se stessa Ieri durante la puntata Di Primo Cittadino Il sindaco di Fano Massimo Seri Ha ascoltato Molte delle richieste Dei segnalatori E dei residenti E si impegnerà A verificare Le varie situazioni Cambiamo argomento Il carnevale di Fano Quest'anno si svolgerà In estate Senza getto Di dolciumi E con alcuni Carri nuovi Filippo Pucci Oggi ha intervistato La presidente Dell'ente carnevalesca Maria Flora Gian Marioli Che ci racconta Tutte le novità Della prossima edizione La pandemia ha decimato Tantissimi eventi In questi lunghi mesi E come si stanno organizzando A questo punto I carnevali italiani? Carnaval! Per il momento Ad aver ufficializzato Le date È Viareggio Con ben cinque sfilate Tra settembre e ottobre Ma sono ancora tante Le realtà carnevalesche Nel confermare La scelta dei giorni Anche a seconda Della situazione Coronavirus Nel nostro paese Tra queste C'è anche Fano Che proprio La prima settimana Di gennaio Si è riunita Via telematica Per stilare Una prima bozza Dell'evento più importante Della città fanese La manifestazione Che quest'anno Doveva essere in programma Per il 31 gennaio 7 e 14 febbraio Vedrà solamente Festeggiare Via streaming La settimana grassa Tra le poche conferme Il tema di quest'anno Dante Alighieri Ha 700 anni Dalla sua morte Mentre le novità Riguardano le sfilate Ovvero nel periodo estivo A cavallo tra agosto E settembre Ma ancora da definire Dunque Il carnevale Dal 1347 Non si è mai fermato Questa è la nostra particolarità È in estate Perché Purtroppo Stiamo vivendo Questa situazione Tutti i carnevali Tutte le grandi manifestazioni Sicuramente Fino all'estate Non sarà possibile Farle Poi bisognerà vedere Come andrà La curva epidemiologica E in base a quello Decideremo Se fare un carnevale Come lo conosciamo Ma sinceramente Penso che quest'anno Non sarà possibile Quindi ci rinventeremo Un carnevale diverso Quindi sicuramente Il carnevale ci sarà E il come si farà Lo vedremo Cammin facendo I caristi A febbraio Avranno la consegna Dei bozzetti E vedremo Che cosa Che cosa ne verrà fuori Mentre per i carri allegorici Che cosa possiamo dire Risfileranno gli stessi Ci sarà un restyling O ce ne saranno dei nuovi Il pensiero primo È far intanto Lavorare tutti E preservare Le maestranze Quindi abbiamo pensato A quattro carri Restaurati Perché ovviamente Devo pensare Ad un budget minore Rispetto ai circa 800 mila euro Normali Poi se invece Più avanti Sarà possibile Fare di meglio Faremo di meglio I carri piccoli Invece Sono dedicati Alle sponsorizzazioni Ci sarà un carro Che sarà pagato Da Gradara E un carro Sarà fatto Dal Nolfi Apolloni Molti gli interrogativi Come l'entrata a pagamento La scelta di una o tre giornate di sfilate E la capienza massima Niente carnevale del mattino Con i bambini E del pomeriggio Infatti Gli organizzatori Stanno pensando D'un carnevale serale Visto le calde temperature D'estate Confermata La collaborazione Con le scuole E la location Ovvero Via Le Gramsci Mentre l'incognita Più grande È sulla parte Tradizionale E unica Della manifestazione Il getto La parte getto È molto in forse Nel senso Non perché noi Non la vogliamo fare Ma perché Per le questioni Covid Teoricamente Ogni caramella Dovrebbe essere sanificata E direi che questo È impossibile Se qualcosa Per l'estate O quando si deciderà Di fare il carnevale Che potrebbe essere Estate O fine dell'estate Cambierà qualcosa Ovviamente Cambieranno anche le scelte Quest'idea del carnevale estivo Accantonata per un po' di anni Verrà riproposta anche Nel corso Delle prossime edizioni? Il carnevale estivo Tornerà a Fano Lo credo fortemente Direi che ormai Ci crede anche Il comune Anche perché Agli stati generali Del turismo L'esperto Che è stato chiamato Dal comune Ci ha confermato Che potrebbe essere Una Una grossa valvola Di attrazione turistica E voglio sottolineare Anche che Emerso dalle statistiche Dai grafici Che ci ha portato L'esperto Fano Viene percepita In Italia Solamente Nelle tre settimane Di carnevale Per il resto In Italia Fano non è percepita Quindi questo Ci deve far riflettere Mentre per il 2022 Ritorneremo Alle classiche sfilate Beh Per il 2022 Direi Torniamo Al nostro carnevale Al classico carnevale Che conosciamo Con un tema forte Vedremo quale sarà Già qualche idea Ce l'abbiamo Insomma Speriamo di tornare Tutti alla normalità Però Essendo persone migliori Sperando che questa Che questa esperienza Non ci lascia indifferenze E subito dopo di noi Le previsioni del tempo E poi una nuova puntata Di Guarda chi c'è Condotta da Paolo Notari Dedicata all'arte E alla cultura Con l'intervista D'Alessandro Mosche Che è un poeta Scrittore E giornalista Io vi ringrazio Per la vostra attenzione Vi ricordo come sempre Il numero dedicato Alle vostre segnalazioni 338 49 68 250 Buona serata a tutti voi Buona serata a tutti